Pace e bene, ecco la donna con il vaso d'acqua e la lavandaia, che ci invitano a considerare l'acqua con un sguardo attento e riconoscente. Cantava San Francesco, laudato sì, mi signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, preziosa, umile e casta. L'acqua così necessaria alla vita ci ricorda anche il nostro battesimo, che ci ha resi figli di Dio e fratelli fra di noi. Pace e bene, a domani.